11 giorni a disposizione delle donne per eseguire una visita gratuita presso l'ospedale di Sapri. Il nosocomio dell'Immacolata in questo modo inaugura la sua nuova stagione da Bollino Rosa, un marchio che ha ricevuto recentemente dal Ministero della Salute per essersi distinto nelle azioni di prevenzione e tutela del gentil sesso. Da un po' di tempo presso l'ospedale Saprese ad esempio è attivo anche il Codice Rosa per le violenze di genere. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Donne ha promosso la prima giornata internazionale dedicata al mondo femminile con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie attraverso gli ospedali del network Bollini Rosa che aderiranno all'iniziativa. Il nosocomio di Sapri, l'unico in provincia di Salerno che si freggia dello speciale vessillo, ha accolto l'invito e dal 18 al 28 aprile effettuerà prestazioni gratuite alle donne in diversi settori, dalla diabetologia, la ginecologia, dall'oncologia, le malattie dell'osso. Per poter accedere alle visite gratuite previste nell'ambito dell'Open Week occorre prenotarsi contattando il referente per il Bollino Rosa Gerardo Gallo telefonando alla 334 69 70 902 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sul sito www.bollinorosa.it è possibile ottenere informazioni su tutti gli altri ospedali italiani che hanno aderito all'iniziativa e quindi presso i quali le donne potranno eseguire visite gratuite durante le speciali giornate di prevenzione.